La Cremonese è una squadra tosta, bella, e dobbiamo prepararci bene perché è una partita tosta. Potevamo fare meglio sicuramente, però ci sono queste partite che vieni dal ritiro e sei un po' stanco e non sei in ottime condizioni. Però speriamo bene per la prossima. Allora, siamo venuti in questa partita un po' senza voglia, dovevamo metterci di più perché è giusto che eravamo un po' stanchi, però ci è servito tanto. Così ci mettiamo la testa a posta per la prossima partita che la prossima settimana ci troviamo pronti. Il ritiro sta andando bene secondo me, siamo tutti concentrati, lavoriamo tanto. Speriamo di arrivare in ottima condizione per la prossima settimana. Di queste cose pensa la società, i calciatori lavorano per se stessi e si fanno trovare pronti sempre. Tu hai sensibili? Io sì, sì, certo.